buongiorno a tutti ragazzi personali sul canale siamo ancora qui nella nostra fantastica cittadina di springfield siamo pronti per un nuovo episodio all'insegna dell'evento cuore oscuro ovviamente mi sto riferendo all'evento post natale che ci darà come ricompensa lago di scorie tossiche qui abbiamo un po di missioncine belle che già completate ci mancano tre parti per avere il completo di monte barnes e a breve ci arriveremo allora detto questo iniziamo subito a riscuotere perché oggi abbiamo un po di missioni evento oltre che quella della storia che stiamo portando avanti cuore oscuro mi sto riferendo abbiamo il signor molte monete che vabbè ci mancano sette ore però vediamo di riuscire un attimino poi ad accelerare la situazione nonché gli altri personaggi che vedete qui come rainer wolf castle e gli elfi i nostri fantastici elfi lavoratori che abbiamo sbloccato nello scorso episodio e la nostra marge taglialegna nostra marge boscaiola che deve accendere un bel fuocherello allora abbiamo un bel po di roma siamo quasi a livello 146 quindi direi che comunque non ci manca molto ecco fatto un fuoco nel camino caldo e confortevole va bene omer puoi darmi maggie adesso ehi volevo cambiare il pannolino ma non volevo privarti di questo momento mamma figlia mi dispiace marge perché indosso una camicia di flanella con queste tormente di neve blackout mi è sembrato il caso di preparare una scorta di legna ad ardere per avere un po di luce e calore ma perché la flanella cioè dobbiamo parlare di questa tua sperimentazione con un nuovo stile di vita omer il nostro matrimonio è tutta la sperimentazione di cui sono capace sinceramente neanche il dottor frankenstein ci proverebbe spaccare il capello parte 1 quindi la missione ha tra l'altro anche condizioni pelfime lavorative abbiamo fatta allora dicevamo effettivamente ci sta che comunque la sperimentazione di marge si limiti al matrimonio perché già quello ciuccia un sacco di energie e io la capisco omer quanto dureranno ancora questi blackout perché lo chiedi a me lavori alla centrale e in quel caso per sempre insomma sono un dipendente tremendo io e l'energia nucleare si boom allora dobbiamo pensare a qualcosa bere birra di solito mi aiuta a pensare e in che modo giustamente chiede lei quando bevo riesco a non pensare voglio una birra ne vuoi una no grazie riesco a pensare anche senza la birra sbruffona spaccare il capello parte 2 quindi portiamo avanti la missione di margeri taglialegna ovviamente e purtroppo ragazzi c'è una pazienza divina sta ragazza vediamo gli elfucci poi cosa ci dicono nelfi lavoratori perché avete quelle facce tristi state costruendo giocattoli carini che porteranno gioia a grandi e piccini è bello anche senza rima bobo natale ha ragione cantiamo allegramente lavoriamo giorno e notte e sabato e domenica il prossimo weekend sarebbe fantastico e il prossimo ancora non smettete di cantare allora qui diciamo che alla fine un controllino della finanza io ce lo manderei ecco diciamo così però potrebbe anche starsi al momento che stanno lavorando per babbo natale quindi penso che comunque non abbiano giorni liberi o vacanze in previsione del natale ecco quindi diciamo che potremmo anche trovarci d'accordo però sulle condizioni io non transigo quindi un controllino della finanza lo manderei allora poi tra l'altro è da capire dove perché tutti sanno che è impossibile trovare il laboratorio di babbo natale quindi questo rimarrà il nostro segreto per sempre penso perché non c'è neanche l'edificio che si riferisca a babbo natale di conseguenza non abbiamo la più palida idea di dove andarlo a trovare allora siamo arrivati a metà della città siamo quasi a livello 146 penso che oggi ci arriveremo non ne sono sicuro ma penso che comunque oggi ce la faremo anche perché dobbiamo ancora riscuotere dalla miniera e quindi non dimentichiamoci mai che abbiamo il nostro bel blocchetto di circa 100.000 punti ormai insomma siamo quasi lì belli pronti ogni episodio al termine della raccolta che ci daranno il nostro bel bonus succio e sia in termini di denaro ovviamente che di di esperienza adesso il denaro non è che ci importi poi così tanto devo dire però l'esperienza ci serve tantissimo più che altro perché il denaro non è che ci compriamo granché se facciamo solo eventi santo cielo lisa questo lago è bellissimo e brilla già non avevo notato alla luce del sole riconosco quel bagliore verde lo stesso colore della roba che viene fuori dal reattore alla centrale è vero il calore il bagliore oh no è terribile infatti detesto parlare di lavoro papà credo che il nostro lago venga usato per scaricare sostanze chimiche radioattive cosa è infatti vedete abbiamo sbloccato il nostro bel laghetto qui lo andiamo a posizionare e si lo lasciamo qui perché tanto vuoro scuro partito completata poi lo sposterò un lago di scorie tossiche sulla nostra proprietà è terribile non preoccuparti lisa possiamo venderlo quando torniamo a springfield ok no non possiamo lisa questa è l'america possiamo fare tutto quello che vogliamo con la nostra proprietà anche con recci nudi come giovanino seme di mela ti ripeto che non è quello che faceva papà non si tratta di un po di scorie tossiche è una vera e proprio super discarica radioattiva aia forse sta esagerando lisa non è male ma non la chiamerei super no è davvero radioattiva essendo tossica è illegale venderla questa è la cosa peggiore che io abbia mai sentito no non lo è sì in realtà abbiamo sentito di peggio effettivamente con omer però potrebbe potrebbe ancora esserci di peggio abbiamo sbloccato quindi la parte 3 che ci darà come ricompensa il gettone scatola misteriosa poi andremo ovviamente a comprare il lago devo dire che mi piace ragazzi non è male non è male poi ovviamente il riferimento alle scorie tossiche noi non lo condividiamo assolutamente questo penso che sia abbastanza scontato però lo specifichiamo nel dubbio che magari qualche ambientalista segue il canale e poi si senta ferito dal mio apprezzamento al lago di scorie tossiche qui abbiamo completato la casetta nel bosco e non dovrebbe essere rimasto praticamente quasi più niente perché siamo quasi arrivati alla miniera e abbiamo riscosso tutto mi sa che le missioni le abbiamo terminate comunque quindi non ci è rimasto niente prendiamo giusto qualcosina sul porto che che ci è rimasto in sospeso e poi andiamo subito alla miniera perché sono curioso di arrivare subito al prossimo livello allora vediamo un po' quanto riusciamo a raggiungere quest'oggi partiamo da circa 450 mila quindi vabbè livello chiaramente lo chiudiamo e infatti livello 146 complimenti io mi stanco subito di qualsiasi cosa persino di parlare allora arriviamo sui 50 mila penso se 43 mila insomma siamo lì siamo lì molto bene molto bene ragazzone abbiamo fatto sui 90 mila punti non male 83 vabbè siamo lì però considerate che alcuni personaggi li abbiamo mandati nella casetta lì nel bosco abbiamo un edificio che è in completamento quindi io direi subito di andare a riscuotere la locanda innevata minacciosamente accogliente ogni 8 ore 150 dollari e 13 esperienza sì diciamo che 8 ore ci può stare la maggior parte degli edifici ormai ci dà ricompensa in quattro ore quindi va anche bene così l'edificio è 6 è sufficiente però niente di che potevamo aspettarci di più come anche di meno quindi diciamo che potrebbe anche starci andiamo a completare finalmente la nostra storia celebre mania parte 1 un incubo sognato che ogni mio gesto era controllato da un nerd wolf castle benissimo accogliamo un nuovo personaggio celebrità di seconda fascia andiamo un po avanti con la storia ragazzi perché ci tocca abbiamo un po troppi personaggi da portare avanti con la storia il maniero è questo qua è molto meglio maniero di wolf castle l'affare nascoste ogni 8 ore 135 dollari diciamo che per 15 esperienza ci può anche stare bart ti ricordi il mini golf una volta ne andavi pazzo non vado pazzo per nessuna cosa mini golf automobili cani li preferisco di dimensioni normali e io condivido ragazzi sinceramente però mi piacevano i loro scarsi sistemi di sicurezza una volta sono passato sotto il naso di una guardia con una borsa della casa del fuoco d'artificio in ogni caso dovremmo ricostruirlo ti terrà lontano dalla strada ci so voglio bombardare quattro gabinetti alla volta un effetto tipo la fontana magica di barcellona non ti sento non sono complice preludio 8 del rod livello 32 dobbiamo abbiamo già raggiunto diciamo e costruisce il mini golf sì come livello ci siamo già sono in procinto di superare gli allarmi del museo e le guardie armate per rubare il famoso diamante la stella di hockdenville beh se lo credi tu ma prima caffeina e cibo spazzatura per potenziare l'adrenalina prima di questo colpo leggendario poliziotti catipart 1 fare pienare il jet market a serpente quindi una nuova missione della storia ne abbiamo sbloccate due grazie per avermi costruito questo immenso maniero dopo che maria mi ha cacciato vagato da un hotel di lusso all'altro che peccato guarda mi dispiace tantissimo c'erano solo bottiglie d'alcolici molto piccole e non è tutto sarà il conduttore di un reality così il tuo terrificante talento teutonico potrà di nuovo distrarre la brava gente di springfield distrarre o è solo il mio modo di dire intrattenere wallcastle in tv se devo comparire davanti alle telecamere farò meglio a trasformare questo friabile corpo di carbone in qualcosa di più duro del diamante c'è le per mani a parte due fa fare esercizio a wallcastle quindi nuova missione della storia praticamente ne abbiamo belle che sbloccate tre io a questo punto ragazzuoli come vedete abbiamo ancora un po di roba da comprare direi che per quest'oggi possa bastare perché tanto abbiamo il mini golf per la storia e poi il maniero natalizio come vedete oggi abbiamo preso veramente parecchia roba due edifici è una decorazione e anche un personaggio quindi molto bene io direi che per questo episodio possa essere tutto ciao a tutti ragazzi